Ivo Borella, Villa, classe 1919. Villa faceva il contadino prima. In montagna era venuto, ma nessuno ricorda che lui abbia spiegato a qualcuno il perché. Forse non lo avrebbe saputo neanche spiegare, perché non era uno che sapesse spiegarmi tanto bene. Di sicuro glielo diceva il cuore di starci, perché con quel rospo d'asma che gli gonfiava il petto ad ogni rampa poteva starsene anche a casa. Invece ci stava di cuore con noi e non era il solo ad essere così. Con noi c'erano molti giovani a cui solo il cuore aveva fatto indovinare la via. Uno era Villa. Con le parole non sarebbe mai riuscito ad indicarci la via. Adesso la sua vita, da quando lo abbiamo conosciuto, a quando è morto è una via. Corrado Ferrari, Giubal, classe 1920. Perché un uomo, assordato dai colpi, con i muscoli rotti dai colpi, si alza e sceglie per le sue ultime parole. Viva il comunismo. Giubal ha fatto questo. Giubal lo sa. Giubal stava per morire e ha voluto lasciare agli altri queste parole. Gli uomini che muoiono con più calma lasciano un testamento spirituale. Giubal aveva fretta e ha lasciato solo un grido. Luigi Velati, Gigetto, classe 1923. Nel giugno 44 Gigetto era a casa, a Pallanza. Vide sfilare i 43 uomini verso Fondotoce e li vide morire. Poi arrivò da noi. Per quelli di Fondotoce, disse. Venne in montagna per i morti. Soffrì per i morti. Sparò per i morti. E imparò dai morti. Infine morì lui a Trarego. E noi abbiamo imparato da lui e ancora impariamo da Gigetto e da tutti i nostri morti. Più che dai libri più belli. I morti sono libri che non si scordano e che fanno imparare molto. E Gigetto è un bel libro. Ermanno Giardini. Ermanno, classe 1924. Forse Ermanno è morto soddisfatto. Tutti i colpi fuori dalla canna prima di morire. Lo credettero il capo. E il suo viso era macinato dalle schegge di una bomba a mano e dai colpi di calcio di un fucile manovrato per la canna. E di chi era la mano che teneva la canna del fucile? Perché Ermanno, quando costui cominciò l'opera, era già morto. Gastone Lubatti. Cesco. Classe 1925. Cesco aveva 19 anni. 19 anni e il viso da bambino quieto. Si preoccupava più dei compagni che di sé. Poi voleva essere lasciato in pace. Poteva starsene a casa, ma diceva che i fascisti gli toglievano la pace e che avevano torto. E allora, per tornare tranquillo, salì in montagna a sparare. Nel dicembre del 1943. A Trarego, quando si accorse che lui era ferito più leggero, gridò ai fascisti di piantarla di sparare. I fascisti si fecero sotto e macinarono colpi sui compagni. Poi gli chiesero se voleva ruolarsi con loro. Rispose solo che gli facessero fare la fine dei compagni. E questa non è retorica dell'eroismo. Luigi Leschiera. Gino. Classe 1922. Gino era l'uomo Gino. Anzi, è l'uomo Gino. È perché l'uomo sapeva sempre quel che voleva. Sapeva perché è diventato partigiano. Sapeva perché sparava. E lo diceva agli altri, a quelli che ancora non sapevano. Quasi non lo diceva a parole. Adesso non lo dice a parole. L'hanno imparato gli altri per quello che non faceva e per quello che non diceva. Atrarego è morto senza parole. Gino non è di quelli che si sentono morire. Se n'è andato senza rumore. Pierino Agrati. Vola. Classe 1919. Vola era cugino di Gino. Abitavano dalle stesse parti. Erano cresciuti quasi assieme. La pensavano allo stesso modo. Solo Gino agiva più col cuore. Vola più con la testa. Vola cercava sempre quello che era giusto. E ci ragionava sopra le cose. Poi Vola era buono. Buono e tranquillo. Lui non fumava e teneva il tabacco per noi quando non ne avevamo. Quando sparava sapeva sempre quanti colpi erano usciti. Sempre allegro. Allegra agli altri. Quando l'hanno ferito ha voluto ragionarci sopra. E disse. Oh catalamea. Poi è morto. Vola è di quelli che lasciano il vuoto. Grande quando muoiono. Aldo Brusa. Primo Carmine. I due borghesi non centravano. Non erano armati. Non avevano sparato. Non avevano parteggiato per nessuno. Forse il cuore aveva parteggiato per i nostri. Ma non concentravano. Solo il caso li aveva portati su quella data superficie di terreno entro la quale chi non era in divisa fascista è morto. Anche loro avevano i buchi sporchi di stoffa bruciata, la carne spappolata. Il perché chiaro, particolare, per loro non c'è. C'è quello generale, sovrano indifferente. La guerra non spigola, miete. Ma anche loro sono una via. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.